ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi andiamo a vedere un segno 1x quindi una doppia chance una doppia 1x dove il segno 1 era la squadra sfavorita e infatti l'1x era data 1 e 57 visto che è stato proposto dagli utenti lo vado ad analizzare allora l'incontro è questo shellburn derby derry no derby allora come vedete qui il sistema proponeva un segno c'è un pronostico no goal con 71 per cento di probabilità e una stella ma l'elemento che mi interessa analizzare adesso è questo l'1 x al 65 per cento proposto dagli utenti perché è interessante perché l'uno era dato a 3 80 e addirittura qui era 1 e 62 io avevo visto 1 e 57 quando gli utenti dal notatore a 1 e 57 però poi dopo è salita anche fino a 1 e 62 quindi se andava contro il mercato e la domanda è ci poteva stare o c'erano altre ipotesi possibili allora partiamo dall'inizio qui c'è quasi una situazione di equilibrio forte perché per avere l'equilibrio forte dovremmo avere tutte e tre intorno al 30 per cento però diciamo che la stiamo sfiorando perché c'è un 29 per cento e 36 per cento e col fatto poi che la favorita è fuori casa è sempre rallentato tendenzialmente non lo vedo da opera un po più da under ecco come incontro anche qui perfetto equilibrio nei precedenti storici c'è una forte presenza di under una ottima presenza di non gol e una forte presenza di segno x andiamo avanti allo sherburne in genere pur essendoci tanti precedenti storici non ha una buona tradizione col derry però guardate qua lo sherburne sta andando alla grande quindi ha perso solo l'incontro e solo con la rete di scatto mentre loro subiscono 4 su 5 quindi subiscono spesso reti hanno fatto una sola vittoria tre sconfitte l'unica vittoria hanno fatto a con una due come vedete dal grafico il segno 1 in realtà si stava alzando e questo stava scendendo quindi si stava allargando questo era più un indice di un possibile over era l'unico over qui in mezzo perché poi tutto il resto sostanzialmente parla di grande equilibrio e di under ora devo rispondere a due domande la prima è se ci poteva stare l'1x la seconda se c'era un pronostico migliore dell'1x allora partiamo dalla prima per quanto concerne l'1x io capisco che sia venuto in mente lo posso capire perché in effetti abbiamo una squadra che sta andando molto bene con una e comunque trasferta non sta andando bene un altro elemento interessante potrebbe essere questo che visto che lo sherburne in genere non vince con il derry in realtà non ha vinto neanche questa volta si poteva anche pensare che magari questa era la volta buona gioca in casa c'è un ottimo rendimento contro un derry che non è che sta andando proprio bene anzi sta andando malino abbastanza male anzi fuori casa e quindi magari era l'occasione buona per rifarsi per lo sherburne questo questo sì però c'erano degli elementi che mi piacevano poco prima di tutto il grafico a un segno 2 che scende è un segno 1 che sale e questo quindi diventa un elemento di pericolo anche perché come vedete il movimento abbastanza forte perché questo a 278 va intorno a 238 254 238 questo da 3 25 sale 355 quindi insomma era era un po pericoloso l'altro elemento che diventa pericoloso e proprio la forte presenza di under perché quando ci sono gli under ci potrebbe essere la sorpresa in realtà in realtà in questo caso essendo però considerata l'ipotesi di andare contro il la favorita che in questo caso noi come favorita in realtà avremmo più la squadra di casa rispetto a quella fuori casa perché questa per me è più favorita di quella fuori casa però il mercato invece pensa che la favorita sia l'altra allora prendendo come riferimento il mercato l'eventuale under potrebbe andare a favore proprio del segno 1 in realtà se la vogliamo interpretare così è un po un'anomalia però potremmo anche prenderla dalla parte nostra però il discorso qual è che essendo una situazione da under se mi segna prima quella che poi la squadra favorita dall'altro magari il risultato rimane fermo 0 1 e quindi diventa un bel rischio cioè se questo incontro finiva 0 1 non bisognava meravigliarsi per quanto concerne altre considerazioni possiamo vedere che qui c'è un fattore sorpresa alta qual è il problema che il fattore sorpresa in questo caso in realtà si è verificato no perché la favorita era questa però il fattore sorpresa io qui lo interpreto in genere come la il pronostico e principale o comunque la nostra favorita e la nostra favorita era proprio lo shellburn quindi insomma in questi casi non è facile interpretarlo quel quell'elemento perché abbiamo la nostra favorita e la favorita degli utenti del sistema del bookmaker diciamo dei siti di scommesse parliamo italiano e che era che non erano in linea noi per noi la favorita era lo shellburn e per il mercato o comunque per i siti di scommesse sportive era quell'altra quindi questo fattore sorpresa alta lo potevo più considerare rispetto a no goal e che poi realtà si è verificato anzi si è verificato un no goal perfetto perché fino 0 a 0 il fattore ribaltamento era basso questo in realtà per il no goal potrebbe essere buono per quanto riguarda il nostro discorso poteva essere interessante che magari segnava per prima la sfavorita e poi il ribaltamento non c'era quindi questo in realtà per chi voleva andare verso l'uno x poteva anche essere visto come un segno positivo perché perché se io ho un ribaltamento alto in genere ribaltamento alto mi va a favore di quella che è più forte quindi anche se sta inizialmente perdendo poi riesce a ribaltare l'incontro invece un ribaltamento basso in realtà potrebbe andare verso l'uno x quindi ci sono degli elementi da 1 x sicuramente però io uno degli elementi che vi dico di analizzare alla fine è proprio il grafico e comunque la quota visto che l'uno è dato 380 è una quota altissima anche se noi stiamo facendo non un 1 ma un 1 x il rischio che ci assumiamo è altissimo ok quindi qui guardate bene da un punto di vista di soddisfazione lo capisco è stata analizzata e ci poteva stare l'uno x se devo giocare un 1 x cioè scusate una doppia che va contro la squadra favorita preferisco proprio fare un 1 x che è un x2 ok quindi ci poteva stare anche questo discorso rimane il fatto che il segno 1 era troppo al di fuori di quelle che considerano delle quote corrette se fosse stato a 280 potevo capirlo ma questo è un 380 cioè è una quota particolarmente alta quindi sebbene siate stati bravi a analizzare l'incontro io questo non potrei mai giocarlo un 1 x così è un azzardo e noi dobbiamo togliere l'azzardo dobbiamo evitare l'azzardo quindi la domanda è ci sono altre ipotesi rivediamo un attimo il no goal che è poi il risultato vincente del sistema allora per il no goal proprio oggi su Turchiaio Rispondo ho parlato con un altro utente ora non mi ricordo il nome credo Wilder e praticamente qual è il problema? che qui si veniva da tutta una serie di partite fortemente da under quindi poterà starci un po' un'interruzione di serie anche qui under 2,5-80% quindi anche qui bisogna un po' stare attenti è vero che l'under la partita potrebbe anche finire over con un no goal quindi un 3-0 un 0-4 potrebbe anche finire dall'altro qui c'è un 2-4-0 però insomma anche qui un pochino di paura ce l'avrei avuta tenendo conto anche che la squadra ospite che secondo il bookmaker è la favorita diciamo siti di scommesse vediamo l'italiano di nuovo prende 4 su 5 ora uno potrebbe pure fare il ragionamento all'incontrario dice ok ma proprio perché la favorita ha preso 4 su 5 magari stavolta non prenderete ok si ci potrebbe stare però tendenzialmente io vi dico per fare un no goal avrei preferito magari un 2-1 un 2-2 un 3-2 cioè avrei preferito una situazione da goal con più di due neti quindi un over avrei voluto vedere un over un over con goal perché sono 1-2 3-4 5-6 partite e questo incontro finiva under e di queste 6 partite 4 volte è finito no goal tra l'altro anche gli 0-0 guardate quanti sono presenti sono troppi ok è finito di nuovo 0-0 però sono troppi quindi allora un po' di paura l'avrei avuta a farlo ora vi dico poi tra l'altro c'era anche un fattore sorpresa alto che non mi piaceva e invece positivo era questo fattore ribaltamento solo all'80% per uno goal quindi sostanzialmente io quando quando vedete cioè vedete perché ho analizzato diverse situazioni ho analizzato anche il vostro 1x però se il pronostico non viene subito e ho dei dubbi e preferisco saltarlo quindi tornando a noi il no goal poteva starci ma c'erano dei rischi dovuti a questi ritardi per quanto riguarda invece la situazione di 1x se non fosse stato per la quota sarebbe stata anche una cosa carina ma andare troppo contro il mercato a maggior ragione quando c'era quel segno 2 che stava scendendo tantissimo è stato un azzardo quindi io capisco la soddisfazione di prendere un 1x a quota intorno a 1,60 capisco questa soddisfazione però è un azzardo quindi stavolta il sistema cioè il sistema il risultato vi ha premiato ma la prossima volta no e a noi non interessa vincere una volta sì e una volta no a noi interessa vincere l'81% delle volte almeno ok quindi questo era era un po' un rischio questo è tutto e ci vediamo presto ciao pacca ciao Grazie a tutti.